Il cervello ha bisogno di zucchero, lo zucchero è pieno di vita! Lo zucchero è energia, è felicità, è una sensazione in bocca. Sono ormai dieci giorni che non sto mangiando zuccheri e ho deciso di fare questa cosa perché io in realtà ogni inizio anno a gennaio per un paio di mesi inizio le mie fasi di purificazione. Quest'anno è toccato lo zucchero, voglio smettere di zuccherarmi, sono già troppo dolce. E ho deciso di fare questo video solo adesso perché mi sono sottovalutato, ho avuto poca fiducia in me e pensavo di non farcela e quindi ho temporeggiato. Quindi la sfida è iniziata già 12 giorni fa ma a quanto pare sta andando meglio del previsto, non sto avendo grossi problemi quindi ho detto sai che ci faccio un video. Anche perché provare a disintossicarsi o comunque a eliminare per un piccolo periodo di tempo una delle sostanze che crea più dipendenza al mondo pensavo fosse una cosa interessante. Vediamo. Non so se sia vero ma avevo letto da qualche parte che lo zucchero crea più dipendenza della cocaina. La cosa non mi sorprenderebbe affatto anche perché lo mettono letteralmente ovunque. Il fast food ad esempio lo mettono dappertutto, c'è nelle patatine, nella carne, le bibite ne sono piene, addirittura la salsa di pomodoro e il pane contengono zuccheri. E questo sempre per il solito discorso della dopamina. Me ne accorgo anche da solo perché ogni volta che un po' di zucchero viene a contatto con le mie papille gustative nella mia testa avviene un'esplosione di colori arcobaleni. Che fa in modo che io ne voglia sempre di più. Caffè senza zucchero ma era già così da prima. Voglio fare questa cosa per un mese. Forse anche due mi sento coraggioso. E poi sta andando bene quindi potrei andare avanti per più tempo. Devo fare però una precisazione. Gli zuccheri che intendo eliminare totalmente sono tutti gli zuccheri aggiunti. Quindi qualsiasi pevanda zuccherata, caramelle, dolcetti, qualsiasi roba confezionata che contiene zuccheri, kinder bueno, nutella, tutte queste schifezze, via. Cose come ad esempio la frutta invece continuerò a mangiarla. Anche perché il punto cruciale qua da capire è che gli zuccheri non sono il male. Gli zuccheri servono, sono importanti e fondamentali per il nostro corpo. È l'eccesso che non va bene e gli zuccheri processati, schifati. Ma poi alla fine non c'è anche bisogno di studiare grandi cose. Lo si capisce anche con un po' di logica secondo me. Basta schifezze. Come faccio senza cioccolata che mi rallegra ogni mia giornata. Il mondo è un po' meno bello senza il mio amato zuccheri, zuccherella. Ma che cazzo sta... Andiamo avanti qua che la mancanza di zuccheri mi sta dando la testa. Quando faccio queste robe voglio sempre avere un riscontro estetico, di vedere come va. Attualmente sono la versione più grassa della mia vita. Ho anche messo su un po' di massa ovviamente, però anche ciccia raga, Natale a me, le feste qua. La cosa più importante secondo me è il peso. Adesso ho peso 73, ve lo metto lì perché non me lo ricordo esattamente. 73 qualcosa purtroppo. Allora, quella situazione pancia è ai limiti del drammatico. Che cazzo devo fare, minchia? Vabbè, una situazione estetica ce l'abbiamo. Vediamo cosa succede togliendo un po' di zuccheri. Questa sera un bel hamburgerazzo homemade, vegetale, senza zuccheri. È chiaro raga che quando si vuole controllare un aspetto sulla quale si accede, come possono essere i zuccheri o qualsiasi sostanza, sarebbe meglio non avere quella roba intorno. Ora, vi faccio vedere la mia dispensa che non ho liberato. Avrei voluto farvi vedere la fase in cui toglievo tutti i dolci, ma non è stato necessario. Dopo un po' di tempo che non ne compri più, inizia a non esserci più niente. E non avendo la roba intorno, sei più tranquillo perché non cadi in tentazione, non rischi. Qua abbiamo farine e sughi vari. Qui invece c'è la frutta secca. Devo dire che, almeno per quanto mi riguarda la frutta secca, è una vera e propria salvezza, infatti a sostituzione degli snack. Io vado avanti a questi semini, la sera, mentre guardo un film o qualcosa, che è uno spettacolo. Però, in personale, non a tutti piacciono, non lo so. Ma se dovessi consigliarmi, mi sostituto la frutta secca e la svolta. E poi fa bene, cazzo. Sopra, invece, c'è ancora un rimasuglio. Perché le uniche cose dolci che sono rimaste sono le barrette di Brozis, che però sono della mia ragazza. Se no, per il resto, non c'è nient'altro. Qui, invece, abbiamo anche solo roba per far da mangiare o di cose, altra frutta secca. Il frigo, proprio ieri si è bruciata la lampadina. Però anche qui non ci sono zuccheri. Non ci sono, o meglio, non ci sono dolci. Perché gli zuccheri, nel caso non si fosse capito, sono ovunque. Ah, e poi fuori tengo le banane, i kiwi e un po' di verdura. Quindi sì, liberare l'ambiente dalla cosa che si vuole limitare, o sulla quale non ci si riesce a controllare, secondo me, è proprio il primo passo. Qualcuno di voi potrebbe pensare che l'eccessivo consumo di zucchero comporti solo come conseguenza un aumento di peso. Ma non è così. Diversi studi hanno dimostrato come un eccesso di zuccheri sia legato ad almeno 45 tipi di malattie differenti. La cosa che però, a me personalmente, dà più fastidio è che lo buttano letteralmente in qualsiasi cosa. È presente in qualsiasi alimento, sapendo che questa cosa crea dipendenza. Ed è proprio su quello che io vorrei avere più controllo. Guardate qua quanto veleno. Roba che in realtà non mi ha mai attirato granché. Comunque litri e litri di zucchero. Per non parlare di questa parte. Zucchero, 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 zucchero. Chi sarebbe questo che è sugar free? Non l'ho anche già assaggiato e non è un granché. Oggi è pranzo, benvenuti nel club con il nostro club sandwich. Questo cos'è? Un sofficino esploso. Abbiamo un'insalata e le olive. Qua c'è scritto toto, quindi sono solo di toto. Aspettiamo i 50.000 iscritti. Che 4.000 iscritti! Dobbiamo festeggiare, pupi! Hai qualcosa da dire? Non dico niente io. Inquadro, tutto, documento, buon Natale. Prima di iniziare il tuo mezzo senza zuccheri ci hai dato a fondo anche tu, non ti preoccupare. Sì, io ne avrò mangiato fino a qui. Eh, vai a cagare, va. I zuccheri dove sono? Di cui zuccheri... Ah, mezzo chilo di zuccheri, guarda qua. Ma io... No, 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 no. Oggi allenamento senza zuccheri. Vediamo se riusciamo a rendere lo stesso. Let's go! Questa è la mia marenda senza zuccheri. Due fettine tostate con un po' di burro di arachidi e la banana che ce li ha, gli zuccheri, ma sono naturali. Ah, e mettiamoci anche il... Eccolo qua. Il sciroppo di Prozis alla mela verde. Zero zuccheri. Però comunque dolce, eh. Diciamo che la mancanza degli zuccheri non si sente. Perché ci sono tutti i trucchietti di mezzo. Ecco, in realtà ho scoperto solo successivamente che pure nel burro di arachidi è presente lo zucchero. Maledetti, me l'hanno fatta! Me l'hanno occultato pure lì. Comunque, vabbè, tra una cosa e l'altra dopo un mese circa senza zuccheri aggiunti mettiamola così la bilancia mi segnava già quasi due chili in meno. E questo senza aver fatto nessun altro tipo di modifica alla dieta o all'allenamento. Ma poi già lo sapete quando le cose iniziano ad andare bene io inizio a prendere qualche scivolone. E' qua e là. E niente, oggi ho ceduto alla tentazione. Purtroppo in questa pasticceria è già impossibile trovare posto. Appena vediamo un tavolino libero ci fiondiamo sopra e dobbiamo sfruttare l'occasione. Però stranamente non mi sento granché in colpa siccome tutto il mese ho rispettato alla grande la challenge. Dopo qualche settimana di privazione di una sostanza che ti crea dipendenza ne acquisisci automaticamente una forma di autocontrollo maggiore rispetto a prima. E quindi è più facile usare il buon senso. E' un po' ironico che ne parlo a me per i miei figli dolcetti. Però è così. Dipende. Secondo me questa cosa è molto personale. C'è chi come te una volta acquisita la consapevolezza poi non ricade e c'è chi invece basta un minimo sgarro per ricominciare. Ogni persona ha bisogno di tempistiche diverse secondo me. Però tutte le persone raggiunta la loro soglia di disintossicazione poi acquistano autocontrollo. perché è una questione chimica. Le sostanze come gli zuccheri, nicotina, alcol, tutto quello che crea dipendenza, ascefazione, dopo un po' va via. Il problema è uno. Le persone magari smettono di assumere quella sostanza ma se nella loro testa c'è un senso di privazione vorranno comunque continuare a provarla quella sostanza lì. Il video è sullo smettere di fumare. Dipende tutto se tu hai effettivamente appreso la consapevolezza che fumare ti toglie qualcosa e non ti dà niente o viceversa. Se tu vedi quella cosa come una privazione è facilissimo ricadere. Se tu non la vedi come una privazione no. Tu hai smesso di fumare. Se fumi una sigaretta oggi domani riprendi a fumare no. La cosa più sensata è fare una combinazione di queste due cose. Io parlavo di una di una dipendenza chimica poi c'è la dipendenza psicologica che è ben diversa. Chiaro che se riesci a combattere ambe e due le cose allora hai superato la dipendenza perfettamente. Ma se fai solo una quando arriva l'altra ti farà ricadere. Il problema degli zuccheri principale è che tu non puoi fare a meno degli zuccheri. Puoi fare a meno di tutte le schifezze zuccherate ma non puoi fare a meno degli zuccheri in generale perché gli zuccheri sono utili al corpo e quindi assumerai sempre zuccheri dalla frutta dai carboidrati e quindi c'è un forte rischio che una dipendenza data dal cibo magari ti faccia cadere in una dipendenza più specifica negli zuccheri ad esempio. Bene, la lezione di biochimica seduti al bar l'abbiamo fatta andiamo avanti. A volte come avete visto sgarravo consapevolmente altre volte invece mangiavo prendevo qualcosa che mi rendevo conto solo dopo contenesse zuccheri. Ora che sto coso qua sia pieno di zuccheri vabbè patatina a parte ma questa non la bevo ma mi è venuto in mente che qua dentro questi cosi qua li riempiono di zuccheri però non è che dico vabbè schifo per schifo allora mi bevo la cocchina e le patatine e il coso ci mangiamo solo l'hamburger vegetale Sono mai diversi giorni che mi sono privato degli zuccheri anche se ammetto che qualche piccolo sgarro me lo sono concesso però sgarri accettabili perché la linea di base che volevo tenere quindi zero roba confezionata e soprattutto zero bevande zuccherate ecco su quello sono stato disciplinato devo dire che sta andando meglio di quel che pensassi meglio del previsto mi sento bene mi sento piaciuto ho perso anche un po' di peso ma soprattutto non ne sento tutta questa mancanza che pensavo di avere è vero che se ce l'ho davanti o se mi capita di essere in compagnia di qualcuno e vedo che tutti bevono la coca cola o mangiano qualche dolce mi viene anche a me la tentazione ma al di fuori di questo ho più controllo di quel che pensassi di avere quindi stavo pensando di continuare farlo diventare quasi uno stile di vita adesso non esageriamo non sbilanciamoci troppo però non mi dispiacerebbe continuare oltre il previsto oltre quello che avevo preventivato c'è questa teoria dei due mesi che è un'abitudine si forma mediamente entro due mesi e quindi sarebbe una gran figata se io in due mesi di sfida di challenge riesco a rimodellare un mio comportamento in uno stato permanente o comunque anche solo parzialmente avere più controllo su una cosa è già una svolta per tutta la vita e quindi secondo me vale la pena spendere due tre mesi appena arrivato da una corsa di dieci chilometri devastante e oggi è sabato e solitamente dopo un bel allenamento come si deve la prassi impone una pizza e una coca cola ghiacciata frizzante che goduria solo pensarci ma no no o meglio la pizza magari si la coca cola no ci sarebbe l'opzione zero coca cola zero però mi sembra un po' come imbrogliare quindi no i zuccheri ormai sono cattoregati come la mia ricompensa soprattutto quando fatico parecchio dopo qualcosa di dolce ci sta riesco benissimo a resistere questo è vero però ci sta un po' più del solito infatti non a caso una pizza e una coca cola ghiacciata sarebbero una gran bella ricompensa per il toto non oggi toto non oggi sono arrivato alla fine dei due mesi con un totale di quattro sgarri consapevoli una volta la pasticceria francese una colazione con i croissants un'altra volta con una crepe pistacchiosa irrinunciabile siamo andati fuori era una giornata in cui ce la siamo presi comoda e quella crepe è stata una tentazione troppo forte e poi al Burger King che non era un dolce però comunque quella roba lì era piena di zuccheri aggiunti malgrado io abbia tecnicamente fallito la sfida sono comunque molto fiero di me perché in questi due mesi ho mantenuto un controllo sugli zuccheri senza precedenti e se fosse sempre così andrebbe alla grande ma ora diamo un'occhiata al riscontro fisico vediamo un po' qua la situazione fisico szzuccherato e anche la bilancia non ha più subito grosse variazioni ma si è stabilizzata su un peso di 71-85 quindi quasi due chili persi come sempre ragazzi per il riscontro fisico fatemi sapere le vostre considerazioni nei commenti ci tengo a dire che lo scopo finale di questa challenge non è mai stato privarmi totalmente di qualcosa ma cercare di acquisire maggior controllo maggior consapevolezza delle cose che mangio ad oggi dopo che la sfida è finita già ormai da diverse settimane vi confesso che il mio interesse per dolci bevande zuccherate varie schifezze è diminuito drasticamente quindi potrei anche pensare che la cosa dei due mesi in qualche modo funziona non so per quanto ma per il momento sembra funzionare vi tengo aggiornati e noi ci vediamo nel prossimo video perché come ben sapete ci sarà sempre un prossimo video come faccio senza cioccolata che mi rallegra ogni mia giornata il mondo è un po' meno bello senza il mio amato zuccherale zuccherale Grazie a tutti